Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Queltaleale, eccoci qui con Resident Evil 6 e il nostro quarto video. Proseguiamo, eravamo se non sbaglio stavamo facendo la campagna di Lyonne ed Elena, sì Elena, gioca, e campagna, perfetto. Eravamo se non sbaglio appena usciti dall'edificio dell'università, continua, diciamo che è passato dopo. Ok campus, capitolo 1, perfetto, proseguiamo. Difficoltà, gente, sì, come prima. Ok, penso che prosegua direttamente da lì. Perché c'era un checkpoint, quindi dovrebbe aver salvato. E sinceramente ragazzi non so quanti altri video posterò su questo Resident Evil, anche perché vedo che in realtà non è molto scappa dall'università. Ok, no, non ci ha fatto riniziare da dove ci eravamo lasciati. Vediamo un attimo se è una cosa veloce, intanto faccio un rivelo che vi dico. Perché Ho notato che in realtà non è tantissimo seguito. Poi io comunque ragazzi, come detto, difficilmente faccio un walkthrough completo. Non per qualcosa, perché se c'è qualche richiesta particolare, li proseguo, li continuo. Però in generale, essendoci molti titoli, vorrei dare un po' di visibilità a tutti quanti. Poi in alcuni casi naturalmente li proseguo, come ad esempio sto facendo con Dark Souls. Sto facendo molti video anche su altri titoli, però non vorrei fare un'unica serie, perché mi piacerebbe appunto, come detto, mostrare un bel po' di titoli, un po' più di titoli. E poi come detto, vabbè, se ci sarà qualche richiesta particolare, se molti esprimeranno il desiderio di vedere determinati, ma dove cazzo ci ha fatto ripartire? E togliti pure tu. Ho scappato dall'università, sì, ci stiamo provando. Ok, sì, qua uscivano questi, adesso li ammazziamo e ce ne andiamo. E quindi non so per quanti altri video proseguirò questo Resident Evil. Vediamo un attimo anche quante persone lo seguiranno e poi magari farò qualche altro video. Se vedo che viene seguito qualche altro video, sicuramente lo farò, proseguirò a farne qualcun altro. Come dicevo, sto facendo video munizioni, prendiamo le munizioni. Ci sono diversi video su Formula 1, perché vedo che quello ha molto seguito, VRC sto continuando a farne degli altri. E il classico Dark Souls, sì, lo proseguirò. E adesso vediamo un po' con questo Resident Evil. Poi sto iniziando anche Dishonored a fare qualche video, come detto, non so quanti ne farò. Anche di quello. E comunque più avanti ci saranno anche altri giochi. Oh! Porca troia! Ma ha mozzicato il bastardo. Dai! Daglielo un po' di... Ma è svenuto? Ok, li trambiamo la testa, direttamente così. Sì, pure tu, non è che possiamo stare qua. Facciamo così, almeno guadagniamo un po' di... In teoria, di munizioni ci dovrebbe dare quando facciamo questi attacchi corpo a corpo. E... O anche altra roba, va bene. Va bene uguale. Punti abilità. Non so, sinceramente, se sto andando dalla parte giusta, perché nonostante fossimo già usciti... Non mi ricordo dove minchia sono. L'abbiamo svegliato? Scusami. Volevo dare fastidio. Abbi pazienza. Ricarichiamo, ricarichiamo. Che minchia ho fatto? Ho sbagliato, mi sa. Non lo so. Forse sì. Vabbè. Infatti, da un po' che non ci giocavo. Non ricordavo neanche i pulsanti. Bene. E... No. E vediamo un po' di andare avanti con questa campagna che è quella un po' più... Se vogliamo... Horror. Un po' più cupa, diciamo. Quella da... Quella dallo stile più... Ah, proprio così, alla wrestler. Oh, acciaccala, acciaccala. Occhio. Ecco qua, premuto. Questi quick time event che partono così un po' alla cazzo. La salute dovrebbe essere... Riprendiamoci così. Vediamo se possiamo fare... Come... Come che si faceva? Così. Facciamo un po' di... Pasticchine. Combina con questa. Che... Combiniamo a sua volta con questa. E quindi... Facciamo un bel pacchettone di sei pasticconi. Bene. Andiamo. Ok. Eravamo, se non sbaglio, arrivati... Ma porca puttana. Ci ho fatto ripartire veramente da... Troppo indietro. Quindi a questo punto, ragazzi... Credo che taglierò. E ci vediamo direttamente all'uscita, che dovrebbe essere questa. Mi faccio un giro qui e ci vediamo direttamente lì. Oh, bene. Eccoci qui, ragazzi. Checkpoint. Era qui, quindi pensavo checkpoint che avesse salvato. Invece no. Quindi a questo punto proseguiamo... Verso... L'uscita. Non so sinceramente se... Che fa? Un tramezzino me lo dà? No, eh? Siamo sicuri? Ok. Non ce lo dà un tramezzino. Possiamo scavalcare? Sì. Ah, ha scavalcato anche la signorina qui. Prendiamoci un po' di munizioni. Ricarichiamo. E... E andiamo. Aspetta, mi sa che era uscito il segno... Volo per prendere qualcosa, no? Vabbè. Uguale, proseguiamo. E... Vediamo di... Non farci mangiucchiare un po' dai... Da sti tipi. Eccolo qui. Vediamo di... Sì, vabbè, magari. Se lo becchiamo... Oh. Provare a tirarmi la bottigliata perché... Che la signorina abbia pazienza... Ok. Bene. Ricarichiamo e andiamo... Verso... L'uscita. Questa c'è il martellone, quindi direi di... Eh... Spararli dalla distanza perché... Con quello potrebbe farci... Vabbè, io c'ho una mirata in merda pure, tra l'altro. A parte questo. Se questa qua dietro evitasse pure di sparare... Quando io bene sto mirando lì che ce l'ho nel mirino, lei mi spara. E mi sposta il bersaglio, l'edizione. Prendiamo le nostre erbette qui. Abbiamo preso anche quella rossa che... Eh... A cosa serve? Erba rossa. Slotta la gommina, eh? Ci dice qualcosa? No, non ci dice niente. Va bene. Magari ce lo dirà più avanti, no? Annigan è chiuso. Non puoi fare nulla. Mi dispiace, non da qui. Provate l'edificio del personale dietro gli spalti. Forse troverete le chiavi. Non ce lo potevi dire prima, no? Edificio dietro gli spalti, ok. Qui c'è un altro... Ok, facciamo quindi qui una cosa acrobatica. Ok, non riusciamo a fare cose acrobatiche, maledizione. Ok, visto che stiamo... Quasi morendo, facciamo proprio alla... Prendiamoci una pastichina. Che non c'è fatto assolutamente niente, quindi ce ne prendiamo un'altra. Ehm... Non c'è niente qui magari di interessante, non so. Dei collezionabili, no? Non ci sono collezionabili in questo gioco. Andiamo... Questo edificio, cerchiamo di trovare la chiave, maledizione. Oh. E dammi una mano qua. Oh, ma sempre così li apriamo le porte. Qualcuno che ci inchiappetta, secondo me. Ho questa sensazione, non vorrei sbagliarmi, ma secondo me... Qui ci inchiappettano. Apriamo anche questa. Eh... Sì, ma se è un salame. Li abbiamo risvegliati. Hannigan, la porta è bloccata. Non si esce. E quindi? Ci sono. Un attimo. Oh. Questo mi si sta mangià. Porca... Cioè, non mi dico che sono morto perché... Arrivo! Sono troppi. Non possiamo eliminarli. Ah. Ora sappiamo dove erano gli infetti. Non possiamo eliminarli. Che stiamo a fare qua? Spara così, proprio là. Ricarica, ricarica. Spaccali la testa. Ricarica. Fai qualunque cosa tu possa fare. Beh, ragazzi. Qua spariamo proprio là. Oh. Oh. Vaffanculo, credevo fosse la... La mia alleata. Tacci tua. Oh. Mi togli dalle palle. Ti ho ricaricato? No? Ci vuole una vita per ricaricare. Spassi. Pazienza. Che mira. Eh, ma quanti minchia sono. Allora, qua qua. Ma dobbiamo andarci? Questi continuano ad entrare. Non è che... Occhio a... Ah, in culo. Gli ha dato una bottigliana in capa. Ma usciamo... Ah, usciamo proprio a pressione. Io volevo prendermi un po' di roba che ci avevano lasciato. Ma va bene. Devo sparare. Ma che c... Ah, ok. Bene. Ok, quindi ragazzi abbiamo visto che... Dopo che ci atterrano la signorina ci può... Ci può rimettere in sesto. Qui dovremmo prendere la chiave che me la sta segnalando qui dietro la porta. Intanto vorrei vedere se... Esatto, se troviamo qualcosa di... Oh. Quindi questa... È viva. Se ci siamo inciampati è viva. No? No. Vabbè. Meglio così. Apriamo anche questa porta e vediamo chi c'è dietro. Perché sicuramente ci sarà qualcuno. È impossibile che ci dia una chiave così. A gratis. Senza farci cagare sotto. Infatti questo... Era solo appoggiato. Meglio. Meglio. Questa non... No. Anche questa non è... Cosa abbiamo qui? Cos'è sta roba? Ma non la possiamo prendere? Dai che la possiamo prendere sicuramente. Questo sarà tipo un collezionabile. Perché non lo piglia? Ma è un bug o... Proprio così non si può prendere? Vabbè. Apriamo sta porta. Vediamo. Ma è così. In modo altamente cazzuto. Apriamo le porte qui. Occhio a questo quindi... Cosa abbiamo preso? Scheda del campus. Oh. Eh lo sapevo io. Lo sapevo. Basta con questi... Che tieni duro. Che tieni duro. Vai vai. Aiutami. Diciamo che non è che dura tantissimo. Forse anche perché dovrei... Abbiamo preso un pezzo. Curiamoci. E vediamo se abbiamo altre... Combina. Ma se combino con questo che... Pazzo me ne fa sei. Grande. Ok quindi una verde e una rossa me ne... Me ne spara sei di... Di compresse. Vai. Dodici. Prendiamocene. Ce ne vogliono un botto. Vabbè ricarichiamoci tutto. Tanto ci siamo. Arriviamo all'ultimo. Siamo sparati una marea di compresse. Ci siamo diventati degli impasticcati. Tu signorina stai bene? Non ti serve niente? No. Va bene. Questo comunque non posso... Eh lo sapevo io. Ma ammazzarli prima quando ci siamo passati che... Ah quindi adesso ce l'ha preso. Dai cazzo. Non ho capito che mi ha detto seleziona gli emblemi. L'ho spaccato. Vabbè. Usciamo da questo maledetto campus. Anche questo si risveglia perché non è che sta qua a perder tempo. Invece si. Perdeva tempo. Mentre non... Perde tempo questo perché... Lo sapevo. Il fatto è che sti maledetti quick time event... E guarda quanta salute mi ha tolto. E arriviamoci una palletta qua. E andiamo avanti. Questo lo evitiamo. Ah qua era... Ammazzalo. Ma spara lì. Spara lì. Vai vai. Io vado di Kung Fu. What up? Dai. Dai Anana. Che cosa ha fatto? Stiamo prendendo della roba che sono dei punti abilità. Ma questi punti abilità potremmo utilizzarli nel caso. Magari. Non saprei tipo... Monster Record. Cambia. Scegli le abilità da utilizzare. Ok. Nessuno. Beh non possiamo fare niente. Ok. Andiamo avanti. Eh ma non è possibile. Non è possibile. Eh che cazzo. Vai così. Con cattiveria dobbiamo ammazzarli. Con cattiveria. Lontani dalle finestre. No. Eh. Non lo sapevo. Perché non gli ho sparato. Acciaccalo. Così. Acciaccalo. Acciaccalo. Stiamo acciaccando. Ci lascia qualcosa. Sì. Punto abilità. Si cazzo di punti abilità però non ci farà usare. Comunque. Eh. Abbiamo la schecchetta. Allora. Aspetta sono caduti. Potevo. Uh. Ma. Ci abbiamo l'accetta? No. No. Ci abbiamo l'accetta. Ridammela. Ridammela. Mi trovo a mio agio con l'ascia. Mi piace. È più da resident evil. È molto cazzuta. Acciaccalo. Ma stiamo morendo di nuovo? È possibile? Ah. Lì la barretta sotto. Si sta pian piano ricaricando. Vabbè. A questo punto ragazzi utilizziamo. La pistola. Qui con i calci andiamo un po' troppo alla. Rischiamo un po' troppo. Quindi a questo punto quando sono. Però mi era piaciuto la combo con l'ascia. Ora non so perché non l'abbiamo più. Fa culo cazzo. Vabbè basta. Qua spende tutti sti cazzo di. Ste munizioni. Andiamo ce ne basta. No. Stiamo qua a gigioneggiare. A perdere tempo. Scusi eh. Magari. Due colpettini li diamo ogni tanto a qualcuno. Guarda questo. Mi passa pure davanti. Ho già già filo. Con dove questo ne lascia? Occhio a lascia. Lascia lascia. Lascia lascia. Ok non abbiamo. Non ho. No non abbiamo. Non ho più. Proiettili. Bene. Perché giustamente qui andiamo alla Rambo. E i proiettili finiscono. Dai signorina che qui ci stanno ricorrendo. Direi di andarcene prima che ci inchiappettano eh. Chiudi la porta. Ok. Perfetto. Eh. Bene ragazzi a questo punto direi quasi di salutarci qui. Vediamo se. Avrei dovuto pensare. Eh. E non ci abbiamo pensato invece. Va bene. L'importante è che rimangono lì. Infatti potevamo scavalcare qui e fare una cosa molto più silenziosa. Invece no. Oh oh. Lo dobbiamo acciaccare perché non abbiamo munizioni. Magari se ce le lascia lui ci fa un piacere. Grande. Qui suonerebbe di nuovo. Quindi scavalchiamo. Scusami eh ma non posso. Oh guarda questo con l'ascia. Ah ecco com'è che usiamo l'ascia. Ecco abbiamo fatto. Una strage. Munizioni prese. Ci stanno inseguendo. Apri apri. Andiamo. Grande. E qui ce ne sono altri. Avanti tutta. Ah corriamo. Corriamo. Avanti a destra. Avanti a destra. Corri corri. Freghiamocene. Corriamo. Con la macchina. Vai così. Sali. Dov'è la signorina? È salita? Scusi. Prendo il prestito all'auto. Non so cosa che devo fare. Stiamo cercando. Oh l'ho trovata. Bene. Nel. E provaci no? Ah ma devo fare proprio ste minchiate io. Ho trovato le chiavi. E pigliale no? Cazzo. Scusi. Comunque questi quick time event veramente non mi piacciono. E togliti. Uh. Dietro il sgombro. Retromarcia. Dietro il sgombro è una parola grossa però. Ma no. Li potremmo piare quelli no? Vai vai. Sì. Sì vabbè ci vogliamo perdere in chiacchiere. Affonne. Vai no. Dobbiamo guidare. No. No. Almeno questo. Fuori dal campus. Ora passiamo la città. Senza farci uccidere. Sì. Eh. Perfettivamente. Oh ok. Magari senza portarci indietro qualche ospite indesiderato. Ma guarda che salà. Guarda che salà. Cioè distrutti. Si integra morti. Così. Merda. In un mondo di zombie morti per incidente stradale sarebbe stata una pirlata. Leon. Elena. State bene. Eh. Forza. Sì. Ci serve un'altra strada per la cattedrale. Se magari sapesse portare la macchina a sto salame. Le fogne eh. Fantastico. Oh. Se salvi portare la macchina stavi già in città. A fare il bullo. In qualche pub magari. Invece adesso no. Ti sei schiantato e vai nelle fogne. Ti sta bene. Vediamo se salva. E eh. Potremmo concludere anche qui questo nostro video gameplay. Ok. Vediamo dopo. Ok. Ci diamo una lucetta. Che fase l'impolpa. Lì nelle fogne. Non è molto romantico. Va bene uguale. No. Ecco. Sorci. Giustamente. E qualcosa in più dei sorci direi. Dobbiamo sbrigarci. Eh. Direi di sì eh. Non ti piacciono le fogne. Forza. Arriviamo alla cattedrale. E ti dirò tutto. Le anni di ora. Racconterò loro tutto quanto. Ok. Vediamo un attimo questa sequenza. Video. Ma signore. Sono molti. Opporsi al mio desiderio di totale trasparenza. So a cosa pensano. Potrebbe creare più problemi di quanti ne risolve. E' una lezione che ho appreso nell'esercito. Le armi bio organiche sono una minaccia globale e la colpa è anche nostra. Dobbiamo fare ammenda e collaborare con il resto del mondo. Se vogliamo avere una speranza di farcela. Comunque vada signore. Sono con lei. Sarà un successo. Tengo molto alla nostra amicizia Leon. Assumiamoci le nostre responsabilità. Sistemiamo questo guaio. Non sarà per niente facile. Ok ragazzi. Perfetto. Salvato. Vai alla cattedrale. Siamo qui nelle fogne. Eravamo appena sfuggiti del nostro campo. E quindi ragazzi io direi di salutarci qui. Ci vediamo al prossimo video gameplay. Un saluto a tutti da quel tale Ale.